Durante queste nostre conferenze avete veduto quale posizione noi prendiamo di fronte al documento che si chiama il Vangelo di Giovanni, quando ci poniamo sul terreno della scienza dello spirito. Avete veduto che non si tratta di acquistare da quel documento delle verità qualsiasi sui mondi superiori, ma di mostrare come, indipendentemente da tutti i documenti umani o altri, vi sia la possibilità di penetrare nel mondo spirituale, proprio allo stesso modo come se oggi si imparasse la matematica, indipendentemente da qualsiasi documento originario per mezzo di cui, per la prima volta, nel corso dell'evoluzione dell'umanità, sia stata comunicata questa o quella parte della matematica. Che ne sanno, per esempio, coloro che cominciano a scuola ad imparare la semplice geometria elementare, che ognuno impara per virtù propria dalla geometria stessa? Che ne sanno della geometria di Euclide, di quel documento originario nel quale, per così dire, per la prima volta è stata comunicata questa geometria elementare all'umanità. Ma se gli uomini hanno imparato la geometria per virtù propria, potranno tanto meglio apprezzare questo libro nel suo essere e nel suo significato. Ciò deve sempre più mostrarci che dalla vita spirituale stessa si possono acquistare quelle verità che trattano di essa. E quando si sono trovate e si tornano ad esaminare i documenti storici, si ritrova in questi ciò che, per così dire, già si conosce. In tal modo si arriva ad una valutazione giusta, ad un vero apprezzamento umano di questi documenti. Nel corso delle conferenze abbiamo veduto che non per questo il Vangelo di Giovanni perde il suo valore. Abbiamo anzi visto che in colui che poggia sulla base della scienza dello spirito il rispetto e la stima di quei documenti non è affatto da meno di quella di chi, a priori, si pone sulla base dei documenti stessi. Sì, abbiamo visto che gli insegnamenti più profondi sul cristianesimo, che possiamo chiamare altrettanto giustamente gli universali insegnamenti della saggezza, ci si presentano di nuovo nel Vangelo di Giovanni. E abbiamo visto che, soltanto se intendiamo in questo modo il profondo senso dell'insegnamento cristiano, possiamo comprendere perché il Cristo abbia dovuto presentarsi proprio in un ben determinato momento, al principio della nostra era, nell'evoluzione dell'umanità. Abbiamo visto come nel tempo post-Atlanteo questa umanità si sia andata evolvendo a poco a poco. Abbiamo indicato che dopo il diluvio Atlanteo vi è stata una grande epoca di cultura post-Atlantea, quella antichissima indiana. Abbiamo indicato che questa cultura antichissima indiana può essere caratterizzata come quella in cui gli animi erano dominati dalla nostalgia e dal ricordo. Il ricordo consisteva nel perdurare tuttavia di tradizioni viventi, provenienti da un'epoca dell'umanità precedente al diluvio Atlanteo, nella quale l'uomo, per sua natura e identità, aveva ancora una specie di chiaroveggenza crepuscolare che gli permetteva di guardare nel mondo spirituale, di modo che il mondo spirituale gli era noto per via di esperienza diretta, così come all'umanità odierna sono noti quattro regni della natura, il regno minerale, quello vegetale, quello animale e quello umano. Abbiamo visto come in questo tempo antecedente al diluvio Atlanteo non vi fosse ancora un distacco molto profondo fra lo stato di coscienza della vita diurna e quello della vita notturna. Allora, quando l'uomo si immergeva la sera nel sonno, le sue esperienze anteriori non erano per lui così incoscienti e oscure come oggi, ma quando si spegnevano per lui le immagini della vita diurna, gli si schiudevano quelle della vita spirituale ed egli si trovava allora in mezzo alle cose del mondo spirituale. E quando la mattina si immergeva di nuovo nel suo corpo fisico, sprofondavano nell'oscurità le esperienze e le verità del mondo divino spirituale e sorgevano attorno a lui le immagini della realtà odierna, dei regni odierni dei minerali, vegetali, animali, eccetera. Quel limite ben determinato fra l'incoscienza notturna e lo stato diurno di veglia è sorto soltanto dopo il diluvio Atlanteo, nella nostra epoca post-Atlantea. Ormai l'uomo era in un determinato modo nei riguardi della percezione diretta, staccato dalla realtà spirituale e sempre più esposto alla realtà puramente fisica. Era rimasto solo il ricordo dell'esistenza di un altro regno, di un regno di entità spirituali e di processi spirituali e a questo ricordo si riconnette la nostalgia degli animi di risalire per mezzo di stati eccezionali qualsiasi in quei regni dai quali l'uomo era disceso. A questi stati eccezionali potevano accedere soltanto alcuni pochi, gli iniziati, ai quali nei santuari dei misteri venivano aperti i sensi interiori di modo che essi potessero vedere nel mondo spirituale e potessero, prima degli altri uomini non ancora in condizione di vedere i mondi spirituali, testimoniare e comunicare che tali mondi erano realtà. Nella cultura primordiale indiana era lo yoga il processo per mezzo del quale l'uomo si trasponeva nell'antica condizione di chiaroveggenza crepuscolare. Quando poi alcune nature eccezionali erano state iniziate, divenivano in tal modo guide dell'umanità, testimoni del mondo spirituale. Sotto l'impressione di questa nostalgia e di questo ricordo si andò principalmente formando nella cultura primordiale indiana prevedica quella disposizione d'animo che vedeva maia o illusione nella realtà esteriore. Allora gli uomini dicevano la vera realtà non è veramente che nel mondo spirituale nel quale possiamo trasferirci soltanto per mezzo di uno stato eccezionale, per mezzo dello yoga. Questo mondo di essere e di processi spirituali è reale, ciò che l'uomo vede con i suoi occhi non è reale, è illusione, è maia. Questo fu il primo sentimento fondamentale religioso al tempo post-atlanteo e la maia fu la prima forma di iniziazione dell'epoca post-atlantea. Allora non vi era ancora nessuna comprensione della vera missione dell'epoca post-atlantea perché non era missione dell'epoca post-atlantea di considerare la realtà che noi chiamiamo materiale come maia o illusione, né di sfuggirla o di rendersi ad essa estranea. L'umanità post-atlantea aveva invece un'altra missione, cioè quella di conquistare sempre più la realtà fisica, di divenire signora del mondo e dei fenomeni fisici. Ma è anche perfettamente comprensibile che quell'umanità che era stata per prima trasferita in questo piano fisico ritenesse da principio essere maia o illusione ciò che in un primo tempo a mala pena affiorava nella realtà spirituale e che ora soltanto essa arrivava a poter percepire. Ma questa disposizione d'animo di fronte alla realtà non doveva perdurare. Questa concezione della realtà fisica come di una illusione non doveva rimanere il fondamento vitale dell'epoca post-atlantea. E abbiamo veduto come a pezzo a pezzo l'umanità post-atlantea si sia andata conquistando nelle varie epoche di cultura la sua relazione con la realtà fisica. In quella cultura che chiamiamo antica persiana, perché quella che la storia conosce come cultura persiana e cultura di Zoratustra o Zoroastro, non è che l'ultima eco della civiltà di cui qui si intende parlare. In quella seconda epoca di cultura abbiamo visto gli uomini muovere il primo passo per superare il principio antico indiano e conquistarsi la realtà fisica. Non avviene ancora in nessun luogo una penetrazione amorevole nella realtà fisica e neppure uno studio del mondo fisico, ma già vi è di più che non nell'antica cultura indiana. Anzi, ciò che è rimasto dell'antichissima cultura indiana nei tempi successivi ci palesa ancora l'eco di quella disposizione d'animo che considerava la realtà fisica come illusione. La nostra cultura attuale non avrebbe perciò mai potuto derivare da questa cultura indiana. Nella cultura indiana la sapienza distoglieva sempre lo sguardo dal mondo fisico e lo volgeva in alto ai mondi spirituali che esistevano come ricordi. E agli indiani appariva inutile lo studio e l'elaborazione della realtà fisica. Perciò il vero principio indiano non avrebbe potuto mai produrre una scienza utile per il nostro mondo terreno, non avrebbe mai potuto produrre quel dominio delle leggi della natura che forma oggi la base della nostra cultura. Tutto ciò non avrebbe potuto mai scaturire dall'antico indianesimo poiché a quale scopo imparare a conoscere le forze di un mondo che poggia soltanto sull'errore. Se più tardi questo sentimento si è modificato anche nella civiltà indiana ciò non deriva da essa ma è conseguenza di influenze successive esteriori.